La prima nave umanitaria noleggiata dalle Nazioni Unite per il trasporto di grano ucraino ha lasciato l'Ucraina meridionale e diretta a Djibouti con 23.000 tonnellate di grano destinato all'Etiopia, nell'ambito dell'iniziativa World Food Program per rispondere ai problemi causati dalla siccità. Il centro di coordinamento di Istanbul ha autorizzato la partenza di altri 4 cargo in queste ore. La Brave Commander, col grano per l'Africa, ha lasciato il porto di Peddeni alla volta di Djibouti, dove le derrate verranno consegnate ai consumatori in Etiopia, come si legge nel rapporto del ministero su Telegram, ha spiegato il ministro delle infrastrutture ucraino. Le altre navi in partenza dall'Ucraina sono la Propus con 9.000 tonnellate di grano diretta a Costanza, la Osprey con 11.000 tonnellate, la Karasu con 6.000 tonnellate, entrambe dirette in Turchia e la Bonita che trasporta 60.000 tonnellate di grano con destinazione alla Corea.